Senti, qualcuna delle tue vecchie passioni saranno rimaste, immagino. Ebbene, sì. La chitarra, per esempio. Eccola, quella sì. Eh, lo dovresti sapere con le pressioni che ho fatto per riuscire a venire qua a sonare un pezzettino. Ci ha parlato. E poi è arrivata, cosa mi danno? Una chitarra fina. No, no, una chitarra vera, guarda. Eh? Oh! Miracolo. Sì, sì, miracolo della televisione. Televisione. Ci ha parlato molto bene di te, Sergio Riccardo. Anche perché io ho parlato molto bene di lui, forse sarà per questo, sono io che l'ho presentato a Gandhi. Sì, sì, certo, sappiamo tutto. Mi sono vestita da mecenate. Ha cantato una bella canzone. È un genio, un genio. È un genio. È un genio. Un momento di genio. E una l'ha portata lui qui, una me l'ha lasciata a me in eredità. Che sarà quella che ci canterai. Che è quella che tenterò di cantare adesso. Bene, sono contento di avverti rivisto dopo tanto tempo. Dopo due sull'altallena non avevamo mai fatto niente insieme. Ebbene no, purtroppo. A presto, Arnolo. A presto. Dunque, la canzone che, come dicevo Arnolo, tenterò di cantare, è una canzone di brasiliana. Il titolo brasiliano è A fabbrica. Lo traduco. La fabbrica. Parla, dunque, è il racconto di un operaio, di una fabbrica, che dice Sì, lo so, ho bisogno di una donna per vivere. Ma qual è la donna che vorrà vivere con un uomo che non ha il becco di un quattrino? Sì, lo so, c'è bisogno di lavorare. Ma io lavoro dalla mattina alla sera stringendo bulloni qua e là. L'altro giorno mi sono addormentata e ho sognato di essere il padrone di una grande ruota gigante di Luna Park. E tutto questo lo racconta la sua donna, dicendo che non potrà darle che sogni, forse, da in avanti. Il titolo brasiliano è A fabbrica fa così 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 Grazie Grazie